Ciao a tutti e bentornati sul canale di Konagakureno a Filippato e siamo qui quest'oggi per proseguire su Kingdom Hearts 3 Ok, siamo liberi, possiamo andare a fare quel cavolo che ci pare Prima di iniziare questo video ho fatto un briciolo di backtracking nell'area precedente Quel simbolo lì andrà poi fotografato, segniamocelo E devo dire che scendendo dal monte Sembra proprio un'altra zona, e se io cado di qua cosa succede? Se io cado di qua dove vado? Fatemi vedere Forgia isolata La forgia di Efesto Mi state dicendo Mi state dicendo che questa è la forza E' la forgia di Efesto E' la forgia di Efesto E? Ok Ok Ok, cosa otteniamo? Ok Scudo cavaliere più Equipaggiamolo subito Eh, resistente al fuoco Ha delle abilità migliori Wow, ma chi se lo aspettava che Cioè, cadendo Spettacolo Ah, qua bisogna Sparare Eh, però non so più dove siamo adesso Sinceramente non so dove siamo Ok Sto aspettando taglio vendicativo C'è, taglio vendicativo Mi ricordo più come si chiama quella che è conquadrato Stai intorno Contraattacchi a mezza Ah, ragazzi Fuoco congiunto Che non so cosa sia Probabilmente Dal nome Dovrebbe aumentare i danni Della abilità di squadra Però fammi tornare un attimo Indietro Fammi vedere dove siamo Perché Qui è tutto bello È tutto bello Ma Qua ci perdiamo un sacco di roba Ok, da qui non si può Fammi vedere l'abilità però Sora Fuoco congiunto Colpo finale di una combo Vicino a Paperino Ok, ha un colpo finale di una combo Ci manca un punto abilità Che però Abbiamo Perché noi abbiamo Eccoli qua Punto abilità Quindi Potremmo vederlo in azione Molto presto Mamma mia Ok, di qua non si scende Mamma mia Mi piace troppo Quando Quando facciamo la seconda fusione Diventiamo Sora di fine Kingdom Hearts 2 E siamo Fortissimi Tra l'altro Premio partita Si fa sentire Ok Siamo tornati Al salvataggio Invece di qua C'era la prima Ho sbagliato Fammi vedere Non continua Come acqua Here we go Wow Wow È tutto bellissimo Tutto Andiamo con queste Seriamente Ah no E qua dove finiamo? Siamo già arrivati in cima? Siamo già arrivati in cima Morite Perfetto E tu non scappare Ok Tra l'altro sembra l'unico modo per salire qua sopra Quindi mi sono lasciato indietro tutta una parte del monte olinco Perché questa è la cima di fatto Però mamma mia La forgia non me l'aspettavo Ah no Non è la cima Per niente Torniamo qua È troppo grande Ci si perde Ci si perde Lì quella luce viola non mi piace Questa è la scuola Questa è la scuola Non è la scuola Ok Ok No Devo capire Perché non capisco Qua non ci sono forzieri né niente Eh Che differenza c'è fra Questo Perché me lo fai loccare Cosa devo farci Non lo so Quella scatola A cosa servo Effettivamente C'è tornado Anche l'altro C'è Zeus C'è Zeus Là C'è salvataggio adesso Però Là Non c'è la prima persona Come nel Negli altri Lo vedete I tre titani Ade Mi soffi un attimo il naso Dai Ercole Come nel cartone Uguale Eman Eman Le altre divinità E c'è anche Hermes Loro tre insieme è tosta Dai eh Che musica Wow Tutti e tre Con VG Titani E quindi Forse ho capito Nooo Voglio raggiungerlo Fammi salire Busca Ercole Ci ha lasciato le penne Vai meniamolo Ok perfetto Ok Ah ok Ercole è salito su lì Ok tornato che Eccala Perfetto Beh lui è quasi morto Il Titano di Ghiaccio Carosello magico Premi X Quando il cerchio di luce Che si allarga Si sovrappone La circonferenza esterna Per far volare I nemici Nari Infliggere Loro pesanti danni Continua a premere X al momento giusto Però questo Groot Lo sa fare benissimo Ah sono quelli Oh my god Questo fa male Oh my god Dovrei salire su lì Per colpirlo Invece che Lanciarmi ogni volta Oh Con Idrosa l'abbiamo battuto Quello di vento Il tornado Quindi abbiamo finito anche il Montolimpo Ok è lui il boss finale Quindi mi sto facendo questo Hanno già parecchia vita Per essere I boss iniziali Non tolgne niente Che ho paura che siamo Ah no ok Non ci spinge via Vai Pippo Bello Non voglio sprecare Idrosa Ok Ho quasi sperato Nell'antifusione Perché ho capito Ho letto Mi è venuto fuori il tutorial Di come si Si usa Ok Dobbiamo essere a poca vita E potrebbe apparirci Ok Ok Schiviamolo Boom No Fai là Dai No No Oh 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 Grade Che devo che cadessi Invece no Ia No Ok Dove è finito? Ma Pare che siamo da soli No Eccola Ciao amico Diventiamo invisibili schivando Dai E' tosto perché più che altro è difficile da colpire Andrebbe capito bene Ok Torniamo sopra Una pozione me la bevo Ok Ma devo essere sincero Questa prima boss fight Cioè questa Penso che sia la boss fight Questa qui non Cioè sinceramente Me l'aspettavo diversa eh Capisco che è tutorialosa Perché ti vogliono far imparare A fare i comandi di tiro Eccetera Però Sinceramente Questo Non è che mi piace tanto Com'è E' stata impostata Non posso Trasportarmi A fine A fine conviene Schivarci in mezzo E prendere solo Un colpo alla fine Dai Eh che cavolo Io voglio energia Ok dove sei andato Ti sta bene Vero Non ci ho pensato prima Deve usare fire Da lontano Proiettile di fuoco Boom Vediamo un po' come finisce la vicenda Dai Meno che non arrivi anche Ade E che ci starebbe Ade Vorrei rivederlo Penso che Sia una boss fight Affascinante ma Più da endgame Come al solito Ti ho già battuto Tu Torna a cuccia Ah beh Si libera Zeus Si libera Zeus Boom Mi sembra che succeda così anche nell'anime Che si libera Zeus E li tira Saette Nell'anime Nel cartone Sappiamo anche quello che dico Non so più Ok anche questa Si Questa scena c'è anche nel cartone E li lancia via Sia Non mi credo! Mi ho messo 80 anni in questo plan e tu lo ha riuscito! Non mi piace davvero! Ma non mi piace! Non ti farai mai avanti, non importa quante volte provi! Sì, resti nel mondo in cui si appena! Tu hai il tempo di te stagione! Cosa! Non ho venuto così lungo per essere ridicolato da Zeusi, il suo piccolo sunspot, e un trio di clowns! Vedi cosa? Io vengo proprio e ti destruo! Hades! Il fuoco è così. Oh... Oh... Hold on! L'ho quasi forgot! That one's for trying to wreck thieves! You'll pay for this? I have a very very long memory! I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Ha infilato la soetta del rimento! Oh... Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family! Yay! I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. Hmm... I finally know where I belong. Hercules! Sora! We never got back to your question. Can I help? It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Of course. Something to fight for. With all my heart. Hmm... I guess you did have the answer. Well... You've got heart, Sora. Just keep going. And I know you'll be stronger than ever. Yeah! I might even end up stronger than you are! There we go again! Primo mondo completato. Origine Eroica. Fusione Contro Scudo. Dobbiamo equipaggiarlo. Ok. Quindi ogni fusione... Ogni Kibli dà la sua fusione e ha ogni... Look. Quindi quello che si vedeva nei primi trailer, che è quello del Sora che ho là io... Quindi mi state dicendo che il Sora con i capelli... Rossi... È perché c'è quel Kibli? C'è col vestito rosso è perché c'è quel Kibli d'infusione? No, non penso. Ok. Me lo fanno già equipaggiato... Ah, non è finita? No. C'è l'escrizione che questa corsa con il Book of Prophecies è di vero? C'è l'escrizione che era sul tuo legge! Sia quieti e sia, tu imbecile! Mi devo trovare il Book of Prophecies e farela mia propria. Questa è l'unica clia che abbiamo. Non possiamo farlo di tracare senza un approccio. Sto dicendo che la scuola in la scuola non ci sarà più vicino a... Wow! Cosa è? Hai trovato qualcosa? Dostarvi a me a una volta, fool! Sì, grazie. Questo deve essere la scuola Pandora che Hades ha chiamato. Lascia. Cosa? Dopo tutto questo spettacolo? Questa non è la box che desidero. Siamo finiti con questo mondo. Vieni! No! Non so, per il vaso di Pandora, per venire fuori un caffè. Fa un disastro. Zigbar. Ma che... Ma che... Ma che... Meglio. Non so, per dire... E sbaglio ho cambiato voce. Realm of Darkness. Mondo oscuro. Rico e Tupolino! Con nuovi vestiti! Cosa è? Cosa è? Riku? Sei freddo? Hai bisogno di un paese? Possiamo stoppare. No. Solo... Ho stato qui. Devo sapere questo posto. Ma tutto sembra come un'altra vita. Ho cambiato i capelli, Rico. Ho cambiato i capelli, Rico. Ho cambiato i capelli, Rico. Rispetto ai vecchi trailer. Hawaii, tu hai fatto anni di crescere, in quasi niente tempo. Non ho più neanche, non ho anch'io. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho... Questo è diverso. E non è un adrenalino. Sento che l'Aqua necessita di noi, ma sono pronti. Sto in controllo ora. Magari è perché stai con me questa volta. Non è me. Credo che è perché hai finalmente trovato dentro di te quella speciale potenza per proteggere ciò che importa. Cosa? A volte ti preoccupi tanto per qualcuno che altri sentimenti rispondono. E poi non c'è room per fear o dubbio. Questo è tutto? La fortuna per proteggere ciò che importa. Mi ricorda di una promessa che ho fatto. A chi? Solo qualcuno che ho incontrato. Non posso dire. Sui che una buona memoria. Sì. 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 Andiamo già a prendere acqua. Non so se... Penso che ci farà giocare con Rico adesso. Questo caricamento senza Monica mi destabilizza. Sì. 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 Va bene. Ok. Siamo già qui. Sì. 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 Sora. Sì? Sì, dove abbiamo trovato il rielmo della luce. Eh, magari Aqua ha fatto anche. Aqua ha fallo in un abissi più d'abbissi. Noggiù non lo vedo. E non credo che siamo preparati a dive più profondi di più di più che già siamo. Quindi... Heartless. No, ardola via per l'alba come bella. Heartless, sono più forti in questo rielmo. Ho capito. Come faccio a fermarmi, a fermare l'episodio, io? Non lo so. Mi sapete anche le parole. La torre demoniaca. E siamo Rico? Bello. Ok. Ha energia, Rico. Ok. Tundaga. Etere. Mamma mia. È molto più forte di Sora. Perfetto. Perfetto. È andata giù veloce. Quel Tundaga gli ha tolto un botto. D'altronde questo è un Rico post 3D. Sora ha perso l'abilità in 3D. Sei guardato. No. Oh no! Eww! Rico! a 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 Cosa? Perché qualcuno mi ha bisogno Chi li parla? Chi sei? Rico? Wiko Wiko E' ok? E' cambiato aspetto E' cambiato i cappelli E' cambiato i cappelli Ma... E' cambiato i cappelli Cosa 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 wow you guys are all here we were here before but you didn't wait hey there fellas so hey what have you three been up to we were visiting oh and to figure out how to get all of sora's lost powers back oh what a shame but honestly we didn't share any better did you manage to figure out where aqua is because master yen Sid said that's why you fellas left come on can i finally say something we know master aqua made it as far as the beach that sora and i once visited but that's where her trail ends meaning all traces of her vanish into the great abyss beneath the realm of darkness no sora was dragged into the abyss during his exam and i went in after him so i think if we find someone who is really close to aqua and they make the dive they could reach her down there i'm not sure who's even left to ask ventus is hidden and aqua is the only one who knows where plus nobody seen terra in ages aqua was the last so aqua she's gonna be the key to finding all three yes their teacher master ericus would have been another possibility that xehanort not mercilessly struck him down but sora that's gonna be super hard since you don't have the power of waking huh sorry i have no idea why that just popped out wow it was pretty convincing yeah non ha parlato lui ha parlato ventus ha parlato il pezzo di ventus dentro sora the last power of waking mickey and riku i recall that master aqua journey to many worlds and connected with others who could be the link we need good plan sir riku and i will retrace her steps and see if we can find any sort of clues but first hmm we got hit pretty hard in the realm of darkness my keyblade was damaged and the heartless broke riku's clean in half so we're gonna need to get replacements before we can continue in that case rendezvous with kairi and lee they are continuing their training under the tutelage of the wizard merlin yes sir also i would like you to deliver these for me are they? yes they are the same as the ones i gave you special vestments to shield kairi and lee from the darkness we got them what is no fair what about my outfit master sora don't put them like that but... it's easier to deliver them settle down i have new clothes for you too sora yeah? a gift from the good fairies I knew you would come through for me thanks those are no ordinary garments sora like before they have very special powers so we took extra time to prepare them In addition, there is a gift from Chippendale inside Cool, ok Happy now? Yep Now you are all ready to proceed Hey, wait, don't forget about me Jiminy! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side The whole team's back Yeah Good Now to mark the beginning of a new journey I wish for you to have this, Sora That is a heartbinder Think of it as a good luck charm made just for you You have a gift, Sora, for connecting with others And this makes that gift stronger It's time to go May your heart be your guiding key Sì Ok, legame sono le invocazioni Sembra Ok, will do Oh, come on, when you get serious Give me a break, ok? Hey, I told you, these things take time Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? 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 Oh, what's this? But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up! Huh? Dale? Hey, Chipper, I finally got him! Hurry up, Chip! Well, it's about time! Chip? Tu devi rispondere al telefono, Sora, oi non possiamo dare te informazioni. Abbiamo molti e molti importanti cose che vogliamo dirvi. E' per questo che abbiamo chiesto di Mastro Yen Sid per assicurare che hai questo telefono che abbiamo fatto, così che potremo stare in conto con te alle volte. E' una foto. Oh, tu finalmente finisiste. Con questo telefono, possiamo parlare con noi all'interno. In realtà, potrei anche provare a scrivere in mio giornale. Wow, sembra che sia abbastanza legato, ragazzi. Quindi, cosa è così importante? Questo! Quando tu e Riku questi per il mondo dormito, Riku recuperi dei dati di ricerca segreti, che Ansem the Wise poteva dentro di te. Ansem's Code! Uh-huh! Abbiamo lavorato i nostri occhi, cercando di rompere e vedere cosa diceva! Il dato è stato in cripto, quindi abbiamo scoperto solo qualche parte. Huh? Oh, credo che non abbiamo parlato avanti al castello. Sono Ienzo. Alias è anche qui. Alias... Alias... Quali sia tra te e Roxas, è nel passato. Sì. 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 Siamo sinceri, abbiamo ancora un po' di domande di domande, ma l'idea ha merito, è davvero incredibile che tu e il tuo nonno possano coesistere, se ti share un cuore, non è vero che qualcuno come tu ha incontrato l'aiuto Ansem, l'aiuto l'aiuto. Siamo continuando investigando basato sulla tua ipotesi, sarò in contatto. Okie dokie, ci sarò a dare ai ragazzi un ring se c'è qualcosa di altro. Ricordate, io e Chip, i ragazzi di Radiant Garden, e il King Nicky e tutti non sono mai fuori. E Gimini, ti facciammi un favore, insegnare a Sora come usare il telefono? Lasciammi! È come il venuto di Union X. Crepuscopoli! Andiamo! E' finito il prologo praticamente. Va bene. Ma che diavolo è successo? Mi ha chiuso il gioco e rimuovo il disco. Eh ragazzi, io non so cosa dirvi. E' successo questo. Dovrò rigiocarmi tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio a Crepuscopoli. Va bene? Legumi e chip ci sono, non ve le faccio vedere come al solito. Ciao a tutti!